Musica Una partita combattutissima, nel primo tempo non siete riusciti a esprimere il vostro gioco, nel secondo tempo la mole offensiva è aumentata, il tuo gol bellissimo, vi ha definitivamente sbloccato, avete portato a casa tre punti importantissimi. Sì, diciamo che la partita non pensavamo che andasse proprio così, nel senso che sapevamo che era un campo difficile, soprattutto per il terreno di gioco, quindi eravamo un po' preoccupate, loro settimana scorsa hanno vinto anche contro la prima in classifica, quindi eravamo un po' attese. È andata bene, il gol è venuto, ma penso che sia stato bello anche l'altro, quindi l'importante era vincere e stare a vedere adesso cosa fa la prima, insomma. Vittoria è importante, non solo in questo momento siete prime perché l'Ausonia ha una partita in meno, ma dovreste essere qualificata ai regionali, me lo confermi? Ecco, non sono preparata sul punteggio matematico, però mi confermano, quindi... Quanta gioia, quanta gioia! Molta gioia, soprattutto per come è nata un po' questa squadra, quindi siamo molto 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 contenti. Insomma, ultime due domande, un voto a questa stagione e gli obiettivi adesso da qui a fine campionata, nel senso che c'è ancora una partita e anche i regionali, cosa avete intenzione di fare? Allora, questa stagione abbiamo fatto un'andata di rodaggio e un ritorno molto roseo, rispetto alle aspettative e adesso non pensavamo, ma ci giochiamo ai regionali, vedremo come andrà. Grazie mille, complimenti per il gol in bocca al lupo. Grazie.